Si fa sempre più critica alla situazione covid nella nostra città. I contagi aumentano di giorno in giorno e hanno addirittura superato quota 100. Dopo gli aggiornamenti delle ultime ore, infatti, risultano segnalate 117 persone positive, 105 residenti a Bitonto, 6 a Mariotto e 6 a Palombaio. Qualche giorno fa la nostra comunità ha dovuto piangere anche un altro decesso per coronavirus. Una donna di 70 anni, da tempo ricoverata in ospedale, ha perso la vita dopo essere stata contagiata. I dati comunicati dal sindaco Michela Baticchio confermano le tendenze già evidenziate nelle scorse settimane. Le famiglie coinvolte sono infatti nove. Il virus è stato quindi trasmesso all'interno dei nuclei stessi, fra conviventi e parenti stretti. E tanti sono i giovani coinvolti. Oltre il 30% dei casi è costituito infatti da under 27, fra i più sordi agli inviti alla responsabilità. Anche nella sera di Halloween, orde di ragazzini hanno comunque voluto festeggiare per le strade della città, ignorando le misure anti-covid e spesso dimenticando di indossare la mascherina e di mantenere la distanza interpersonale del meno un metro. Per limitare gli assembramenti non controllati, il primo cittadino ha anche firmato un'ordinanza per la chiusura anticipata alle 18 degli open shop. Ragazzi, ricordatevi una cosa, vi è stato chiesto solo una mascherina a un metro di distanza, solo questo, ha scritto su Facebook Michele Abaticchio. Ricordatevi tutto prima di commentare l'ennesimo lockdown e chiedetevi se avete la coscienza a posto.